Sta bene, parte con noi e è tutto sotto controllo. Oggi si è allenato, ha fatto una parte di allenamento, quella che interessava la parte tattica, poi ha continuato differenziato, ma sta bene. Non dobbiamo farci influenzare dall'avversario, ma dobbiamo badare a raccogliere il maggior numero di punti, partita dopo partita, a prescindere dall'avversario, a prescindere dal giocare in casa o fuori. Quando dicevamo che dalle difficoltà nascono delle opportunità, l'importante è che in queste difficoltà sono nate grandissime opportunità. Cioè aver capito che Mandragora è un giocatore che può fare anche il difensore centrale, aver capito che Vitturini si è messo a livello dei titolarissimi. E quindi l'importante è che quando tu vai a giocare i prof, noi li abbiamo fatti l'anno scorso, quindi un minimo di esperienza ce l'abbiamo, capisci che ogni tre giorni non è semplice, più gente è a disposizione su cui puoi fare affidamento è meglio. Nel calcio di certo e di sicuro non c'è nulla, perché se il prossimo anno arriva il Manchester e mi chiede, io probabilmente gli direi di sì. Quindi non è che posso nascondermi dietro a queste cose qui. E' ovvio che una di quelle certezze che ho è che ho un contratto. Poi sicuramente questo è un momento in cui fantastico, a volte con un'eventuale formazione del prossimo anno, ma questa è la normalità. Poi è normale che nel momento in cui finirà qui la stagione dovrò parlare con il Presidente, con il Direttore per cercare di capire quali sono i programmi, per cercare di capire che cosa si vuole fare. In base a quello fare un bel progetto per il futuro. Grazie.